Nonostante WhatsApp sia di fatto l'applicazione per la messaggistica istantanea utilizzata da più persone al mondo, è indubbio che si tratta di un'app che ha tantissimi limiti. Tanti limiti che in effetti sono stati superati da Telegram per esempio, che a mio parere è sicuramente meglio di WhatsApp. Limiti che però grazie anche alla dinamicità di Android e agli sviluppatori possono essere superati. Nello specifico parliamo di una cosa in particolare, utilizzare contemporaneamente due account di WhatsApp, quindi due numeri di telefono collegati a WhatsApp su un unico smartphone. Quindi immaginate di avere due telefoni con due numeri di telefono diversi, ma voi su un unico smartphone potrete chattare sia con l'uno che con l'altro numero di telefono. Lo faremo con un'applicazione del tutto gratuita, lo faremo con un'applicazione che è sicurissima, ma che in effetti richiede tanti permessi nel momento dell'installazione, quindi decidete voi se installarla o meno. Io sono Dario Caliente e questo è un nuovo video di TechFanPage. Nello specifico l'applicazione che andremo ad utilizzare si chiama Parallel Space, è veramente molto semplice da utilizzare, è gratuita ed è disponibile nel Play Store. Una volta scaricata e installata l'app vi ritroverete davanti ad un'applicazione semplicissima, la prima cosa da fare è cliccare sul tasto più posto in basso e scegliere l'applicazione con la quale si vuole utilizzare il multi-account. In questo caso scegliamo Whatsapp. Dopo qualche istante vedrete che l'applicazione verrà inserita nelle app presenti in Parallel Space. Tutto quello che dovrete fare sarà quindi selezionare l'applicazione per aggiunta e quindi procedere con la registrazione del nuovo account di Whatsapp. Ovviamente una volta inserito il secondo numero di telefono, l'SMS con il codice di verifica verrà ricevuto proprio su quel numero, e quindi non sul numero che si sta utilizzando attualmente nel dispositivo mobile, ma come noterete a questo punto è possibile utilizzare l'applicazione di Whatsapp come si fa sempre e quando volete utilizzare quella con il secondo numero di telefono, quindi multi-account, non dovrete fare altro quindi che avviare Parallel Space e selezionare Whatsapp. Il tutto sarà veramente molto semplice da effettuare. Ragazzi avete visto utilizzare questa applicazione veramente semplicissimo? Ogni volta che vorrete utilizzare l'account di Whatsapp secondario lo dovrete aprire utilizzando prima però questa app. Quindi voi avviate l'applicazione e scegliete Whatsapp nell'applicazione che avete aggiunto in modo tale da dare il via alla sessione con il secondo account. È veramente molto semplice ed è l'unico metodo che funziona veramente molto bene per avere due numeri di telefono connessi a Whatsapp su un unico smartphone Android. Io sono Dero Caliendo e come al solito, cari miei, vi mando un abbraccio. Io sono Dero Caliendo e come al solito, cari miei, vi mando un abbraccio.